Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like, inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. L'Inter di Milano sta attualmente mettendo in atto strategie di mercato straordinarie, proiettando lo sguardo con determinazione al futuro, in particolare su gennaio e la prossima stagione. I nerazzurri sono impegnati nella ricerca di rinforzi che possano innalzare ulteriormente il livello della squadra, mirando a costruire una formazione ancora più potente e dotata di una rosa profonda in grado di affrontare qualsiasi sfida in Europa. Tra i nomi che catturano l'attenzione della dirigenza dell'Inter, spicca quello di Amanunana, il giovane e talentuoso centrocampista dell'Everton. Unana, che si è distinto nella Coppa del Mondo con il Belgio, sta cercando una via d'uscita dal club inglese. Attualmente alle prese con difficoltà, penalizzazioni e problemi finanziari, la sfida per l'Inter si prospetta impegnativa, considerando che l'Everton richiede una cifra considerevole, pari a 60 milioni di euro, per liberare il giocatore. Nonostante il costo elevato, l'Inter sta seriamente valutando l'opzione di un prestito con diritto di acquisto. Tuttavia, la competizione si fa agguerrita, con giganti del calibro di Liverpool e Chelsea che si contendono il talento di Nana. La situazione si evolve rapidamente, e l'Inter dovrà agire con prontezza e astuzia per assicurarsi questo prezioso rinforzo in mezzo al campo.